ho avuto un piccolo caso di deja vu durante la realizzazione di questo video forse perché giuro che ho fatto un video simile tre o quattro anni fa cercherò di trovarlo più tardi perché probabilmente non è più pubblico si spera che questa sia una spiegazione migliore di come la prospettiva faccia parte di ogni aspettativa del modello terrestre a differenza del mio ultimo video questo ha un sacco di sottotitoli quindi non farò una panoramica dettagliata qui sembra che qualsiasi menzione di sfera curva raggio e persino rendere ingorto grafico possa rendere stanchi e difensivi alcuni sostenitori della terra piatta per favore sappiate che tutto ciò che dimostro qui è in riferimento alla geometria non alla realtà stiamo confrontando forme geometriche un piano contro una sfera non una terra piatta contro un globo terrestre tutte le regole della prospettiva si applicano ancora a qualsiasi previsione fatta su come apparirebbero quelle forme geometriche se viste attraverso l'obiettivo di una fotocamera a un'altezza specifica la mia unica intenzione è dimostrare che esiste una differenza geometrica tra una sfera e un piano piatto e tale differenza può essere osservata e misurata in un modello le stesse differenze possono essere osservate nella realtà ma non possono essere utilizzate per determinare la forma della terra a causa della rifrazione o di qualche altro fattore di flessione del percorso della luce conosciuto un modello ci fardisce solo un piacevole punto di partenza per una discussione ragionevole il punto principale è che un aspetto sferico non può essere attribuito alla prospettiva la prospettiva conosce solo linee rette comprendere e concordare quando qualcosa sembra curvo non è la stessa cosa che concordare sul fatto che la terra è una sfera lo faccio anche a mio vantaggio per rivedere i miei pensieri e assicurarmi di non aver perso nulla per prima cosa rendiamo l'acqua traslucida così possiamo vederci attraverso passiamo alla veduta ortografica questa vista toglie di mezzo la prospettiva non c'è alcuna profondità nell'immagine non ci sono più le linee che convergono in un solo punto gli obiettivi non c'è la posizione dell'osservatore pensate a questo come fare una fotografia ad uno schermo led ampio 1600 metri dove ogni pixel cattura un singolo pixel di informazione in una linea retta perpendicolare allo schermo dato che non c'è profondità in questa veduta ortografica possiamo confrontare direttamente le grandezze effettive degli oggetti senza la loro vista angolare ma a differenza con la veduta di lato ortografico non possiamo disegnare linee dall'osservatore all'oggetto per determinare la sua grandezza angolare e la posizione torniamo alla realtà prospettiva andiamo ad aggiungere alcune imbarcazioni alla scena ognuna aumenta la distanza di due chilometri su un piano piatto le imbarcazioni appaiono più piccole con la distanza convergono al livello degli occhi la parte alta delle imbarcazioni adesso che il livello della fotocamera è a 15 metri non si abbassa in lontananza anche il fondo delle imbarcazioni non si alza l'angolo dell'intera imbarcazione semplicemente diventa più piccolo questa la convergenza attraverso un singolo punto eliminando questo punto con la veduta ortografica eliminiamo la convergenza della veduta adesso aumentando ancora le distanze le imbarcazioni mantengono il loro rapporto della grandezza reale così come le loro vere posizioni verticali ed orizzontali liberiamoci degli oggetti di scena e focalizziamoci sulle imbarcazioni adesso ridisegniamo la base fisica conformandola ad una sfera con la raggio di 6.371 km aumentando la distanza le imbarcazioni appaiono più basse ma rimangono della stessa grandezza anche se non riusciamo a misurare l'angolo di ogni imbarcazione da un singolo punto fotocamera possiamo confrontare direttamente e misurare l'abbassamento di ogni imbarcazione dal punto 0 di elevazione dal livello 0 nonostante le imbarcazioni siano sempre alla stessa elevazione distanza dal centro della sfera questa veduta mostra l'abbassamento reale dal punto di partenza della coordinata verticale altezza base a 0 m variando il raggio fisico della sfera cambia l'indice di abbassamento in basso o dell'incremento in alto rispetto al livello di base ricordate la linea verde rappresenta l'altezza di 1,75 metri nella veduta ortografica in questa veduta non c'è l'altezza degli occhi sebbene possiamo misurare l'abbassamento verticale in questa veduta non possiamo prevedere la quota nascosta senza un osservatore per misurare questo richiede sia una veduta laterale nella rappresentazione ortografica o la normale veduta quotidiana della nostra prospettiva l'imbarcazione più lontana si è abbassata di 80 metri dal livello partenza di base 95 metri dal livello degli occhi ben sotto l'orizzonte dell'acqua questo spazio di 95 metri è rappresentato dalla veduta dell'angolo in prospettiva determinato dalla reale grandezza e distanza lo stesso abbassamento è misurabile nella veduta ortografica confrontando la grandezza reale mettete in pause controllate voi stessi poi notate lo spazio orizzontale uniforme delle imbarcazioni nella veduta ortografica con la prospettiva inoltre lo spazio orizzontale uguale fra le imbarcazioni in distanza diventa più piccolo in sintesi la prospettiva si può applicare per previsione aspettative su qualsiasi modello di globo e piana su un livello piano si sa che quei punti con la stessa elevazione appariranno sempre al livello dell'osservatore con la stessa elevazione ci sono solo due condizioni conosciute che possono deviare dall'aspettativa piana una di queste ovviamente è la curvatura di una superficie fisica di un oggetto che si trova sopra l'altra è l'argomento del mio prossimo breve video spero di essere stato di aiuto per qualcuno se no cercherò un approccio diverso qualora ricevo qualche suggerimento costruttivo grazie di aver guardato grazie a tutti